oh amico c'eri davvero vicino ma se vogliamo postare il filmato ci serve l'esecuzione perfetta forza bello sono pronto lo so amico lo so scusami scusami ma farò del mio meglio praticamente subito fangkulo 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 ecco il link per scaricarla a dopo comincia la eddy's challenge e qui con me c'è eddy in persona benvenuto grazie dunque prima gara primi piloti che ne dici sono spacciati beh intendi eliminati bruciati siamo sicuri questo è eddy un uomo di poche parole ma molto taglienti quindi buona fortuna ok io già li ho superati tutti eh li ho già bruciati io porca troia che errore ho fatto un errore imperdonabile grazie grazie